Guardi, io ormai sono anche un po' stanco di dover commentare qualcosa di surreale che da un anno sta accadendo. Si insediò il governo un anno fa, ci dissero che di lì a poche settimane sarebbe stata concessa l'autonomia alle regioni che ne avevano fatte richiesta, previa prima ovviamente verifica se ha le due parti, perché non è che stiamo parlando di una sola parte che deve decidere, perché ci siamo anche noi, cioè le regioni interessate fosse stata riconosciuta. Avevo letto ieri di trionfali e roboanti annunci di soluzioni al Consiglio dei Ministri di ieri sera, mi pare stamattina che non solo non ci sia nulla di fatto, ma sia ripreso lo scontro dentro al governo. Ho sempre detto che non mi permetterei mai, da rappresentante delle istituzioni, di andare a sindacare chi abbia ragione o chi abbia torto. Per me il riferimento si chiama governo italiano, non certamente né la Lega né i Cinque Stelle, che sono parti di maggioranza di questo governo, come per il governo, immagino, interessi ragionare col Presidente della Regione Emilia Romagna in quanto rappresentante delle istituzioni emiliano-romagnole. Mi pare che siamo al nulla di fatto e anche quando ieri sera leggevo che avrebbero trovato una soluzione, mi veniva da sorridere, perché per trovare una soluzione bisogna che si siedano al tavolo con noi. Non pensino che basti una parte, delle due coinvolti, a decidere cos'è che va bene e cosa non va bene. Noi abbiamo sempre dato credito, lo voglio ancora dare, ho sempre detto che la Ministra Stefani sia comportata in maniera esemplare dal punto di vista della disponibilità, però sarebbe il momento, dopo un anno di balletti e di chiacchiericcio e un po' di barzellette, di mettersi a sedere e ragionare se davvero si vuole procedere concedendo autonomia, come prevede il comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione, alle regioni che hanno fatto richiesta e che cosa sia quella richiesta di autonomia. Noi abbiamo fatto richieste molto precise, non abbiamo ancora ritorni, vorremmo poter essere messi nelle condizioni di stabilire e decidere insieme se le cose siano nella direzione che auspicavamo o se addirittura vadano in direzione opposta. Ecco, io mi aspetterei un po' di chiarezza, non tocca a me darla in questo momento. Intanto sono aumentate le regioni che hanno chiesto l'autonomia. Ma com'era inevitabile che fosse? E guarda caso, tutte le regioni che stanno chiedendo autonomia la stanno chiedendo senza chiedere di ricorrere al referendum, ma esattamente nel procedimento che la Regione Emilia-Romagna aveva messo in campo quasi due anni fa. Perché, come la Costituzione prevede, non è scritto da nessuna parte che si debba andare a un referendum consultivo popolare, per quanto io abbia sempre detto che rispettavo alla grande le decisioni dei miei colleghi e amici, Presidenti di Lombardia e di Veneto. Io vorrei parlare nel merito dei problemi. Se parliamo di merito, allora forse è più facile intendersi, anche perché la proposta dell'Emilia-Romagna, insisto, secondo me è la più equilibrata, perché non chiede un euro in più di quello che già lo Stato spende oggi per gestire alcune competenze, quindi vuol dire che noi non vogliamo togliere un solo euro ad altri. E la nostra, a mio parere, è più equilibrata perché, ad esempio, non vogliamo la scuola regionale. La scuola è nazionale, universalistica, e noi non vogliamo andare a decidere quali debbano essere gli insegnanti dell'Emilia-Romagna piuttosto che di altre regioni. Quello che invece in quel caso pretendiamo è di decidere invece noi o insieme a noi gli organici, perché io non voglio più che nei prossimi anni un ragazzo o una ragazza, una studentessa o uno studente inizia l'anno scolastico e per mesi non sa l'insegnante di riferimento che debba avere.